È un momento magico, perché è il mio esordio con la maglia della Fiorentina e subito nella prima palla che ho toccato ho segnato, quindi è una serata da non dimenticare. Come ti senti in questo gruppo? Perché sei restato, penso che c'era la possibilità di giocare, però ho visto Montella quando parla di te, ci crede molto. Com'è il rapporto con il mister? Sì, il mister ha fiducia in tutti i giocatori che sono lì con lui, se lui mi ha voluto qua è perché crede in me, tutti che sono in massimo lui crede. Io voglio solo darmi il mio massimo, allenarmi bene per quando avrò altre opportunità di fare bene. Lo sai che il tuo gol è il più veloce nella storia della Fiorentina tra i giocatori che sono subestrati, quindi complimenti, 26 secondi di gioco, sono un record. Grazie, grazie, sono molto felice per questo record. Senti, ti chiedo, prima non ti sei rinascosto al sito della UEFA, alla televisione della UEFA, la Fiorentina gioca questa competizione per vincerla e così ci credete? Sì, sì, la Fiorentina è tanto in campionato come in Europa League, vuole sempre arrivare sui primi posti. Senti, devi credo cogliere le occasioni quest'anno perché sarà difficile, ci sono tanti campioni lì in attacco. Come ti senti questa sensazione di far parte comunque di un gruppo importante da cui imparare tanto magari? Sì, solo in stare con un gruppo così, con tanti campioni, è un'esperienza molto buona per me, allenarmi con loro. Voglio sempre allenarmi bene per quando arriva un'altra opportunità di insegnare, di fare bene.